Bisogna fare i complimenti alla fortitudo, hanno approcciato la partita con un differente livello di energia e di fisicità, hanno proposto una difesa che ci ha concesso pochissimi vantaggi, noi abbiamo malinterpretato alcune situazioni e onestamente dal primo quarto la partita è stata indirizzata. Se non avessi visto la mia squadra altre volte, compresa la partita di andata, arrivare prima degli altri, vincere a rimbalzo, essere più reattiva, riuscire a imporre la propria fisicità, sarei preoccupato, invece devo semplicemente analizzare che in questo campionato, in alcune occasioni in trasferta, non tutte le squadre sono pronte ad imporsi esattamente come fanno in casa. Questo è un qualcosa su cui noi dobbiamo ancora migliorare, però ripeto, altre volte siamo stati noi a giocare in questa maniera e il risultato è stato diverso, quindi visto che sono stati loro oggi ad imporsi, i miei più sinceri complimenti per la partita della fortitudo e la meritata vittoria. Domande per il coach? Tonio? Donaldi ha scavigliato, però non sembra anche grave, ha voluto provare nel secondo tempo, vediamo domani. Altre cose? Posto, ragazzi. Grazie.